Mi? Mi? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oh, ammi lecchi? Prima mi... Aaaaaaah! Prima mi lecca poi muore! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Dammi la sampata! Dammi la sampata! Ammi lecchi, eh, per chiedere pietà! Perché hai appena perso la sfida! Ahahahah! Bellino! Beh! Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale! Oggi parliamo di una delle due bombe che Games Workshop sgancerà in questa calda estate del 2023 E non so se si vede tra l'altro anche la gattina nel frattempo Tanto ormai ruba sempre la scena e ci va anche bene Parliamo di Leviathan, la nuova scatola di base, il nuovo set di base da collezione della decima edizione di Warhammer 40.000 Che vede da una parte contrapposte le armate degli Ultramarine E dall'altra parte invece una combat patrol dei tiranidi Con delle nuove miniature, ragazzi, che vedrete poi nel corso del video, nel montaggio Che sono una vera e propria fine del mondo Regole riviste Magari non mi spostare il microfono, ci gioca Regole riviste Facilitate E il motto di questa decima edizione è semplificato Ma non per questo vuol dire semplicemente Stupido, mettiamola così come regolamento È un regolamento molto competitivo Per tutti Hanno preso il meglio dall'Age of Sigmar E l'hanno rimesso in chiave 40.000 Secondo me è più snello del 40.000 Dell'Age of Sigmar Ed è veramente una figata Ovviamente, come detto poc'anzi, ci sarà una seconda bomba Che, a parte sta gattina che è una bomba Che l'AGV dovrebbe sganciare nel corso di quest'estate Non ancora confermato Ma si menziona verso agosto Ovvero Warhammer Old World Si torna al vecchio mondo Rimarrà anche Age of Sigmar Meno male perché è bello Si torna a Warhammer Vecchio Mondo Dove nella scatola di partenza dovrebbero esserci Bretonnia contro i Camry I non morti delle sabbie Che ricordano un po' il culto egizio Ma la cosa bella è che ristamperando le miniature Totalmente rinnovate E io non vedo l'ora Si parla ora di Warhammer 40.000 Leviathan Dopo la sigla Devi smettere di rompere le scatole Ti faccio video Fatto Dammi un bacino Dammi un bacino Pace fatta va bene Una foca Una fochetta spiaggiata Parlando un po' della lore Di questa nuova edizione La decima edizione Preciso Di Warhammer 40.000 E il gatto è intanto che si fa il bagno Io facendo un po' di schivate Intorno a questa bella zampina Di un Maine Coon paffutino E mia moglie dietro che ride La lore C'è stata la famosa battaglia Di Indomitus Se vi ricordate Sul pianeta Val Che è il pianeta Praticamente capitale Del capitolo Dei Blood Angel Degli Space Marine Degli Adeptus Astartes E' stata vinta la battaglia Contro Un tentacolo Della flotta Leviathan Che si pensava Fosse Una grande parte Della flotta Gatta In sé per sé Invece si è venuta a scoprire Che era soltanto Ma forse L'1% Della vera flotta Che invece adesso Sta arrivando E infatti La non edizione Di Warhammer 40.000 Prevedeva Vi ricordate Il risveglio Dei Necron E le battaglie Di Robot Gilliman Nell'Imperium Nihilus Quindi quella parte Restata fuori Da tutta quanta La parte dell'Impero Normale di Terra Era un po' una battaglia Che vedeva da una parte I capitoli delle Space Marine Contro i Necron Che si stavano risvegliando Invece questa volta E' la più grande figata Perché io ricordo a tutti Che Warhammer 40.000 Come nasce? Nasce da Star Quest E giochi del genere Lo sapete che Star Quest E' stato un po' Una prova Della Games Workshop Per vedere Di portare anche Un gioco futuristico Ed ebbe anche più successo Di Hero Quest Fondamentalmente O almeno a me Piace anche di più A livello di regole E ci fu questo esperimento Il primo esperimento Fu appunto Portare Gli Space Marine Come primo esercito Gli Space Marine Contro Tirannidi O comunque Anche vi ricordate Quando uscì Un altro gioco bellissimo Nella GV Ad esempio Space Hulk Space Marine Contro Tirannidi Quindi si torna Un po' secondo me Agli albori All'inizio Di questa saga Di questa ambientazione Sci-fi Bellissima Una delle mie preferite Insieme ad Alien Dove appunto Gli Space Marine Tornano a combattere I Tirannidi Gli Xeno Gli Alieni Ed è il set base Perfetto Nella scatola Di base Di Leviathan Che ricordo Ma ve lo ricordo A fine video I pre-order Partono da oggi E le scatole Verranno inviate A fine mese Quindi dal 24 O dal 25 Comunque A fine mese Verrà inviato Nella scatola di base Abbiamo tutto quello Che ci serve per giocare Il regolamento In versione cartonata E soprattutto Da collezione Esclusiva Di questa scatola Lo potrete ricomprare A parte Ma non sarà questo Questo esclusivo Della scatola Abbiamo un box Con le carte missione Dentro Bellino Un cofanettino Con tutte le carte missione Perché giustamente Lo dice Sì ma Gli scenari A parte gli scenari Sono già nel regolamento Base Però È bellino Un po' Alla Warcry O anche House E John Sigma Tirarli fuori Vedere le carte Partire con lo schieramento E la missione E gli obiettivi È anche bellino Perché dà quel tocco Di casualità in più Non capita mai due volte Cioè mappe modulari Non capita mai due volte La stessa mappa 25 Space Marine E 47 Terranidi Ragazzi ribadisco 25 Space Marine Che comprendono Termine Squadra di Terminator Bibliotecario Apotecario Eccola che scivola anche Generale Un tenente Degli ultramarine E una squadra d'elite E una squadra infernus Con il lancio a fiamme Mentre invece Dalla parte dei tiranidi C'è un po' di tutto Ovviamente c'è Quelli che sembrano essere I nuovi Lictor Che si chiamano I Leaper I Saltatori I Morrian Mi sembra Leaper Poi abbiamo Dei nuovi tiranidi Spettacolari I nuovi Termagant Ad esempio Che sono una figata Assurda Abbiamo il nuovo Carnifex L'urlatore Ragazzi che vi arriva In corpo a corpo Fa 10 attacchi Ferisce al duo Più E fa 3 ferite Ciascuno Non di 3 ferite 3 ferite Ciascuno Quello che entra in corpo a corpo Sei finito E in più Abbiamo ovviamente Un regolamento Che ci spiega tutto Nel dettaglio E ci da anche la lore Di questa nuova Gattina Ambientazione Ovviamente I transfer sheet Per decorarle Tutto Figata In questa confezione Che qualcuno potrebbe Storgere il naso Ma nessuno vi vieta Comunque di andare Ad usare La colla Non serve la colla Perché sono tutti Incastro Come quando è uscito Warhammer Conquest Per farvi capire Sono tutti incastro Sia i tiranidi Che le Space Marine Quindi Levate dagli sprue E le attaccate Semplicemente Non serve nemmeno Una punta di colla Però Mia moglie ad esempio Consiglia sempre Di mettercela Perché comunque Stanno più attaccati Insomma Non fa male Tanto se ce l'avete a casa Ce ne mettete un cosino Una puntina Però Non serve assolutamente Il regolamento Non parlerò di questo oggi Perché voglio parlarvi Del regolamento Quando mi arriverà La scatola Che già lo conosco E piccola parentesi A breve giocheremo Una partita di prova Su Tabletop Simulator Che caricherò In questo canale Il regolamento È snellissimo Ragazzi Age of Sigmar È il regolamento Più facile Che ha fatto la GV Per i Wargame Perché sennò C'è Warcry Come gioco skillmish Comunque per i Wargame Major Sigmar È una buffonata Questo è ancora più facile Addirittura I punti comando Ne avete uno solo Uno te Un all'attaccante Un al difensore E gli stratagemmi Sono una pagina Divisi per stratagemmi Da usare nel tuo turno Nel turno dell'avversario O in qualsiasi turno Quindi sono veramente Semplicissimi Avete 10 stratagemmi Scritti in una pagina E ci avete un punto Quindi scegliete voi Quando usarlo Quello è Fase inizialmente Di comando Dove c'è anche la fase Di morale Fase di movimento Fase di tiro Fase di carica E l'ultima La fase del corpo a corpo Come vorranno Nel Giove Sigmar Prima tutto l'esercito Del vostro avversario E poi il vostro A parte La fase di combattimento Finale La fase di combattimento Come nel Giove Sigmar È alternata Quindi questa unità Questa unità in corpo a corpo Prima l'attaccante Questa unità in corpo a corpo Prima io Ce le dividiamo Praticamente Corpi a corpo Uno te Uno io Uno te Uno io Uno te Uno io Giustamente A parte le unità Che hanno L'abilità Attacca per primo Se hanno attacco per primo Ovviamente attaccano per prime Lo dice anche il coso Però È Age of Sigmar Hanno preso Age of Sigmar L'hanno messo nel 40.000 E l'hanno snellito Da morire Ragazzi Non ho problemi a dirvelo Avendo letto il regolamento Secondo me Di battaglie Wargame Fra il Signore degli Anelli Age of Sigmar E Warhammer 40.000 Decima edizione Warhammer 40.000 È il regolamento più facile Quindi Se eravate rimasti come me Un po' scossi Dalla nona O dall'ottava edizione Provatelo Perché questa È l'edizione giusta Per introdurvi Nel Bellissimo universo Di Warhammer 40.000 Ma il resto Poi ve ne parlerò Quando mi arriverà La scatola Con unboxing E tutto quanto Se lo volete ordinare Come sempre Primo link In descrizione In sovraimpressione Dalla giocolibreria Simula Al miglior prezzo Sul mercato La scatola In box Viene 200 euro Usate Il codice Discount Come vedete ora a video Il codice Discount Corridan 7 Per avere uno sconto Del 7% Che su 200 euro È tanta roba È veramente un bello sconto In più Spedizioni Postali Gratuite Lo ordinate Vi arriva al corriere In 48 ore In tutta Europa Quindi se lo volete ordinare Da giocolibreria Semula Ma state che ne so In Francia State in Svizzera State anche Da un'altra parte Anche in Olanda In 48 ore Vi arriva a casa Gratuito Senza alcuna spesa Giocolibreria Semula Il nostro negozio Sponsor Ne sta ordinando Uno sbotto Di scatole Si parla addirittura Di una quarantina Di scatole Che gli arriveranno Nel negozio Ma vi do Un consiglio Un consiglio Un consiglio proprio D'amico E anche per chi Ci vuole guadagnare Se la dovete prendere Prendetela ora Perché è attiratura È attiratura limitata Come Indomitus Io ho visto gente Che non l'ha presa La ordina L'ha cercata Due mesi dopo E non si trova più Io l'ho comprato Il regolamento Di Indomitus Non è lo stesso Che era dentro La scatola Della Collector È normale Quindi È roba Da collezione Se la dovete comprare Fate uno sforzo E la prendete ora Ma vi do anche un consiglio D'amico Se voi siete interessati A comprarla Per il regolamento I datasheet E magari I tiranidi A me degli ultramarini Non me ne frega niente Compratela O smezzatela con un amico O compratele Gli ultramarini Li rivendete Andate su facebook O da un'altra parte Magari li vendete Boh Quanto potrebbero costare Tutti insieme Esagero Non lo so 80 euro Te li vende 50-60 E praticamente avete Quasi dimezzate I costi della scatola Se la dovete prendere Ragazzi Prendetela ora Non vi fate venire la voglia Fra dopo un mese Dall'uscita Perché è a tiratura Limitata E non è prevista Nemmeno una ristampa Come di Indomitus O lo compravvi Quando è uscito O non c'era più Quindi prendetela subito Perché poi Tante cose I datasheet E tra l'altro Tutto materiale Che GV Ha messo sui siti Anche a gratis Per un tempo limitato Quindi andate Sul sito della GV E trovate il regolamento E tutte le datasheet Gratuite Cosa che poi Come ha detto GV Verranno tolte Quindi Gioco libreria semola Andate Fate l'ordine E al momento del discount Usate il codice Coridan7 Tutto scritto maiuscolo Cliccate ok E vi fa direttamente Il conto Col 7% in meno Ragazzi Veramente Senza dubbi Io non giocavo più a 40.000 Io a Warhammer 40.000 Non giocavo più Perché l'ottava Era troppo complicata E la nona Era partita bene Ma poi mi ha sciolto un po' Le parti basse Perché Mano a mano L'hanno complicata Io spero che non succederà Con questa decima Vi assicuro D'amico Per non farvi perdere Un euro Andate a vedere Sul gioco libreria semola E se avete Dubbi di giocare Il 40.000 Perché è troppo complicato Prolisso E complesso Assolutamente Ragazzi È il momento Per iniziare Warhammer 40.000 Appena arriverà il box Vi farò vedere Tutto quanto Ciao ragazzi Alla prossima Se questo video ti è piaciuto Lascia un like E clicca sulla campanella Per essere sempre aggiornato Ricevere notifiche E non perderti nemmeno Un video in uscita Primo link in descrizione Primi link che trovate Ricordatevi sempre Di iscrivervi anche Al canale Facebook Al canale mio Di Live Twitch Alla mia pagina Instagram E alla mia pagina TikTok Che sono sempre aggiornate E su Twitch Mano a mano Troverete la programmazione Aggiornata Con tutte quante Le live del giorno Quindi guardatela sempre Perché ci sarà sempre La programmazione Aggiornata Mi raccomando Iscrivetevi Soprattutto ai social Perché sono sempre aggiornati E se devo comunicare qualcosa Anche per il canale YouTube Lo troverete sempre lì Ciao Alla prossima